Che spettacolo, che meraviglia, che capolavoro! Qui a Radio Bruno ci sono il volo, ciao! Ciao a tutti, buongiorno a tutti! Ragazzi, ma che canzone avete presentato al festival, è meravigliosa, bellissima! Questo lo devi dire tu! Sì, te lo sto dicendo, è proprio molto bella! Grazie mille! Ci fa tanto piacere, sai, dopo un anno e mezzo di lavoro, tutto si racchiude in tre minuti, quell'istante, è proprio quella la magia di Sanremo, riuscire a avere l'intelligenza di godersi quel momento e non farsi travolgere dall'ansia. Avete calcato dei palchi incredibili in tutto il mondo, però quel palco lì dell'Ariston mette sempre una certa tensione, dai! C'è un fattore emotivo preponderante, anche perché noi siamo nati su quel palco, tutto è iniziato lì e cantare nel palco dell'Ariston ci riporta un po' all'adolescenza, quindi quelle emozioni sono sempre le stesse. Ieri è stata veramente una grande emozione cantare un nostro nuovo inedito, quindi potrebbe essere quello che è l'inizio di un nuovo repertorio per noi. E com'è nata questa canzone? In quale parte del mondo avete avuto l'ispirazione? Beh, abbiamo avuto... Posso rispondere o devi commentare in silenzio? Commenta in silenzio, nell'autotesto, non ci pensai. No, beh, è stato un lavoro, come diceva Piero, di un anno e mezzo, abbiamo lavorato con un team di ragazzi pazzeschi e hanno... Il capolavoro fa parte alla fine di un album che uscirà presto e tutto questo album ha un concept. E il concept che questi ragazzi hanno creato, abbiamo creato insieme, ci hanno vissuto, abbiamo vissuto cose, dialoghi insieme... Ed è nata così, nell'esigenza comunque anche di parlare di quella sensazione, che quando conosci qualcuno o vivi qualcosa, ti accorgi che a un certo punto è come se fossi un capolavoro, ecco, che può cambiare la tua vita, quindi cadi dal cielo e speriamo che non si fa male. Capito? No, così, è vero. Ho capito, ho capito. Ho capito tutto, è stato chiaro. A proposito di capolavoro, mettiamo la serata di venerdì, delle cover, aggiungiamo Steph Burns e poi una canzone, capolavoro dei Queen. È una grande sfida, è una grande sfida per noi interpretare Who Wants to Live Forever dei Queen. E l'abbiamo voluta condividere questa esibizione con un grande chitarrista, Steph Burns, come ha detto poco anzi. E dobbiamo ringraziare Vasco Rossi, ci ha prestato il suo chitarrista. Già abbiamo fatto le prove, durante le prove si è creata un'energia, un'adrenalina unica. Non vediamo l'ora di salire su quel palco e non deludere il nostro pubblico. Sicuramente sarà così, sarà un momento emozionante, toccante. Siete molto riservati, toccante. Siete molto riservati, però insomma, volevamo veramente farti complimenti Ignazio, perché sappiamo che tra po' ti sposi. Eh, l'hai detto tu l'hai spolerato. Sì, è irrilevante in questo momento, però sì, mi sposerò. È il tuo capolavoro, possiamo dire. Già sappiamo a chi dedicarla. Sappiamo che comunque sei stato travolto immediatamente. A chi dedicarla, a chi la dedico. No, a chi dedicarla. Immagina, la dedichiamo tutti. Fa come... No, aspetta, la dedichiamo a voi, quello interno. Ah, siete un capolavoro. Ah, grazie. Brava. Sicuramente, insomma, la cerimonia la canterete. Come dicevi Pocanzi, no? Pocanzi. A tempi orsui. È un recondito. Ragazzi, dopo questa settimana frenetica Sanremese, che succederà? Partiremo in tour, andremo in Cina e in Giappone, e poi atterreremo all'Arena di Verona. Non è una battuta, realmente, dal Giappone atterreremo a Verona per tre concerti, il 9, 11 e 12 maggio, e poi seguirà un tour estivo, tantissime date, perché, come sapete, quest'anno festeggeremo 15 anni di carriera. Abbiamo deciso di farlo con tanta musica. Sanremo, un album nuovo e un tour mondiale. E poi torneremo negli Stati Uniti, a Australia. Sarà un giro abbastanza lungo, che ci impegnerà per un anno e mezzo, due. Molto bene, io vi ringrazio. Grazie mille al volo. Grazie a tutti. Viva Sanremo.